salve signori allora vi mando questo video per dirvi quello che ho deciso in pratica su la carriera di fifa 23 allora voi sapete che io solitamente diciamo le carriere porto in campionati di campionati sconosciuti stati diciamo calcisticamente poco affrontati ecco punto vista calcistico poco visti a punto vista calcistico per scoprire nuovi campionati scoprire nuovi posti nuove cose particolari diciamo a punto di vista calcistico anche per cercare un po di sana ignoranza in giro per il mondo ecco ora diciamo che quest'anno fare una scelta un po' differente differente perché perché non ho trovato onestamente una motivazione che non ho trovato onestamente un campionato scognito che mi ispire a tal mi ispire a tal punto quest'anno da farci una carriera perlomeno non ovviamente non fra quelle che diciamo già affrontato ecco poi c'è un secondo discorso secondo discorso questo a questo discorso adesso si affianca il fatto che quest'anno è stata è stata annunciata la serie b la serie b italiana su fifa 23 cosa che mancava da da qualche anno e questo giusto giusto quando in serie b c'è il palermo c'è il mio palermo e allora ho pensato questo ho pensato che quest'anno la mia carriera possa essere un ritorno a casa un vero proprio ritorno a casa nel senso che proprio chiamerò così la mia carriera ritorno a casa quest'anno infatti porterò il palermo porterò il mio palermo su fifa 23 proprio per questo perché mi ritrovo dopo anni ad avere finalmente a su fifa 23 con le maglie ufficiali nome ufficiali tutto quanto cosa che non so quanto non so non so se quando accadrà una cosa del genere il mio palermo potrò lo porterò quest'anno su fifa 23 e siccome e siccome quest'anno quest'anno quest'edizione del calcistico elettronic cards sarà l'ultimo con il nome fifa sul proprio titolo sarà l'unico con l'unico a marchio fifa per noti motivi di economici che hanno portato a non rinnovo del dei diritti fifa da parte troni cards ho pensato che questo oltre a essere il ritorno a casa poi tra l'altro particolare discorso che faccio la carriera questo ritorno a casa sul palermo proprio nell'anno un anno in cui io fisicamente in real non sono più a palermo sono altrove sono a per motivi di lavoro sapete benissimo insomma ho detto anche altri video e io proprio perché questo è l'ultimo calcistico elettronic cards a marchio fifa pensato di far sì che questa carriera possa essere una sorta una sorta di diciamo in un certo senso una sorta di grande riassunto di grande di un di zoom ecco di tutte le carriere che ho fatto finora su fifa su fifa 23 in che senso spiego questo perché in che senso questo questo diciamo avverrà a mio senso su due fattori due livelli il primo per quanto riguarda la ricerca dei giocatori sulle giovanili le mie ricerche voi sapete io in ogni 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 campionato e una carriera che ho fatto i giovani li ho sempre cercati del luogo del luogo della carriera c'è quando il primo è la prima rabbia solita la ricerca ho fatto sui arabi in danni quello in danimarca fatto le ricerche di giocatori dei giovanili solo danesi o al massimo scandinavi in 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 turchia ho fatto solo i turchi romania sono rumeni insomma capite mentre quest'anno voglio a questo punto di vista anche a questo punto di vista questa carriera su palermo deve essere una sorta di e mi sono riassunto per un brutto termine però ecco riassunto di tutte le carriere cioè i giovani nelle giovani che andrò a cercare saranno giovani di tutte quelle nazioni dove ho fatto la carriera saranno giovani arabi saranno giovani indanesi saranno giovani rumeni saranno giovani irlandesi saranno giovani turchi saranno giovani da tutto punto da tutti da tutti i punti da tutte le nazioni dove siamo stati con questo viaggio diciamo durato anni per quanto riguarda la carriera su fifa le carriere su fifa e questo da un punto di vista dall'alto vuole essere riassunto perché perché come sapete io ogni anno sempre cercato di non ricomprare sempre gli stessi giocatori c'è ogni carriera sempre cercato di eventualmente comprare giocatori diversi da una carriera all'altra fare in modo che ogni carriera abbia i suoi eroi ecco questo è il fatto questo non voglio prima invece a poter a non aver limiti poter comprare giocatori di tutte le carriere per avere non lo so da avere per esempio il nostro buon benjamin al palermo per esempio per fare un esempio non so quanti da questo punto di vista calcio mercato quanto riuscirò a farne perché spesso i nostri eroi sono nostri eroi delle varie carriere sono giovani o giovani usciti dalla primavera o regen ma insomma vedremo giocatori reali ci sono anche stati e cercare anche quello è questo semplicemente questo c'è questa carriera su fifa vorrà essere un ritorno a casa vorrà essere una somma un grande companion di tutto quello che è stato il percorso fino ad ora delle varie carriere su fifa o specifico dire che questa è l'ultima carriera che porti l'ultima carriera di fifa o quello che sarà che porterò sul canale e continuo a portarle ma essendo questo l'ultimo anno di essendo questo l'ultimo anno della di fifa l'ultimo anno in cui il calcistico detto nel calcistico sarà marchio fifa ho pensato di far questo ho pensato di fare di questa carriera una sorta di album fotografico una sorta di grande summa di quello che è stato il percorso finora quindi penso avervi detto tutto per quanto riguarda l'inizio della carriera vediamo perché con con gli play c'è possibilità di avere la prova di 10 ore in anticipo qualche giorno prima che non tre giorni prima cosa del genere io purtroppo per motivi di impegno non so se riuscirò a portarlo sicuramente riuscirò a portarlo al 27 passerà forse qualche giorno prima che io riesca a iniziare la carriera per un ultimo insomma per impegno cercare di incastrare registrazione e montaggio delle puntate fra i mille impegni che ho però farò prima possibile cercherò di far sì che vediamo un po vediamo un po vediamo un po martedì mart al massimo cercherò fare in modo che domenica 2 ottobre o martedì 4 ottobre ci sia la prima puntata di questa carriera su fifa 23 di questo ritorno a casa su fifa 23 detto questo credo avervi detto tutto spero che vi abbia registrato bene se c'è qualche scatto qualche cosa vi chiedo scusa è la prima volta che faccio questo tipo di video con un nuovo pc quindi magari ho spinto un po troppo per quanto riguarda qualità comunque vediamo detto questo io ringrazio tutti quanti voi per questo video e noi ci vediamo in campo con la carriera i fifa 23 con tutti gli altri video quelli quali non mancano alla prossima